I vigili del fuoco stanno lavorando ormai da due giorni in tutta la Lombardia per cercare di scongiurare i problemi legati al maltempo che non cessa di abbattersi su tutto il territorio. A Cremona alcune strade e i sottopassaggi sono stati allagati mentre il fiume posta registrando un rapido innalzamento di più di 3 metri arrivando a toccare 14 centimetri sopra il livello dello zero idrometrico motivo per il quale verrà monitorato durante tutta la notte. Dal 13 maggio infatti il suo livello è passato da meno 3,5 metri a più 14 centimetri in soli tre giorni. A dovere invece nella serata di ieri è sondato il fiume Tormo invadendo le strade cittadine rendendo necessario il repentino intervento dei soccorritori all'opera per controllare che non ci fossero persone in difficoltà mentre nei comuni di Pizzighettone, Spinodadda, Castelleone e Soresina per città ne solo alcuni sono state chiuse, diverse strade per allagamenti. A Trescore e Cremasco invece già nella giornata di ieri è stata chiusa la scuola media per infiltrazioni dovuti alle forti piogge. Nel territorio di Lodi si registrano poi centinaia di interventi dei vigili del fuoco a causa di cittadini rimasti bloccati nelle proprie case. Per finire nel Bresciano, in particolare nella zona del Franciacorta si segnala la caduta di grandine in diverse parti del paese.